C'è un altro amico che ha una voce straordinaria, che viene dall'Algeria. Con lui ho fatto una canzone che parla di fede e di speranza. Credo che sia la voce giusta per dire che forse c'è bisogno di fede e di speranza. Grazie mille. Un altro sole quando viene sera sta colorando l'anima mia. Potrebbe essere chi ti spera, ma nel mio cuore è solo io. E mi fa piacere sono spirale, così c'è l'asta, she's my baby. E mi fa ridare, besta via, è bruci al fuoco, she's my baby. E mi fa ridare, besta via, è bruci al fuoco. E mi fa ridare, stai guardare, stai guardare. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti